ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi andremo a parlare al circuito di okenembring okenembring giusto allora questo è il circuito e allora okenembring è un circuito automobilistico che si trova un attimo che si trova vicino alla cittadina di okenem okenem nel nord dell'and baden rutenberg in germania fu costruito nel 1932 su dei sentieri boschi ora offre posto per 820 mila spettatori ha ospitato 77 edizio del gran piano di germania di formula 1 nel 1970 dal 1977 al 84 dal 1986 al 2006 nel 2008 nel 2010 nel 2012 nel 2014 nel 2016 e dal 2018 2019 e 12 del gran premio di superbike di okenembring dal 1988 al 1987 e dal 1999 al 2000 nell'edizione 1976 la nord scheife è stata tratta del gravi genere di nikki lauda per tre ragioni il gran premio di germania abbandonò il lomburring per trasferirsi a okenem quest'ultimo aveva già sfidato il gran premio di germania nel 1970 la decisione del trasferimento venne presa dopo una visita sul circuito di alcuni piloti tra cui la stesso lauda la scelta non era particolarmente gradita agli organizzatori vista la minore capacità di accogliere spettatori del circuito di okenem rispetto al nord burgring a parte un'occaso del 1985 il gran premio di germania arresto allo che neembring così col tempo il nord burgring diventò sede la seconda cosa tedesca del mondiale ospitata negli anni di gran premio d'europa e quello del lussemburgo dal 2008 al 2013 l'hokenembring e il nuburgring entrambi alle feste con difficoltà finanziare si alternarono nell'organizzazione del gran premio nazionale mentre la stagione 2014 invece tutte le edizioni del gran premio tedesco si sono svolte all'hokenem ring l'edizione 2013 della corsa rivista al nord burgring è stata a lungo termo in dubbio a causa delle difficoltà degli organizzatori a divenire alle richieste di bernie e crestone si rispettò così la possibilità che il gran premio restasse a okenem pur nella difficoltà finanziare anche di questo tracciato sulla situazione pesa anche la diversa proprietà dei due circuiti la vd proprietà del nord burgring era contrario all'effettuazione della corsa all'hokenembring di proprietà della dell'adac per tale ragione le crestone proposte di chiamare la gara in caso di permanenza all'hokenem il gran premio d'europa vista sua assenza nel calendario 2013 nella stagione 2015 il gran premio di germania sarebbe dovuto tornare al nord burgring ma la difficoltà finanziaria del tracciato aveva aperto la possibilità che la gara si svolgesse all'hokenem ring nonostante la crisi economica del tracciato metteva a rischio lo svolgimento della gara nel 2017 il nord burgring era comunque disposto ad ospitare la formula 1 il 16 dicembre 2015 l'exson conferma che anche nel 2017 il gran premio di gran germania non si svolgerà al gp stack successivamente dopo che gli organizzatori della pista di hokenem non sono riusciti a subentare per via dei problemi economici george seller ceo dell'hokenem ring conferma che la costa non si disputerà nel 2017 ospitava la gara inaugurale delle v series del 2009 il disegno originale degli anni 30 prendeva la partenza poco fuori da 100 abitato all'altezza dell'attuale sud curve la curva che mette su di hanno rettilineo di partenza per poi inoltre assene il bosco lungo strade preesistenti con un tracciato della forma triangolare lungo 12.045 metri e percorsi in senso di orario nel 1938 ebbero luogo i primi lavori per realizzazione di quello che sarebbe diventato un vero impianto permanente con vasti lavori di sboscamento che portano alla realizzazione della host curve dei tratti di raccordo alle strade preesistenti e del raddoppio di tutta la sede stradale conferendo alla pista la sua caratteristica forma ovale e conservando il senso di percorrenza anti orario la configurazione classica del circuito era velocissima con lunghi tratti rettilinei o con leggere curvature raccordate da un numero molto ridotto di curve più lente a lunghe e lunghe 7.725 metri dal 1964 a casa della costruzione della tostata manheim waldorf che attraversava il vecchio tracciato alla zona all'immediata per riferire al centro abitato cominciarono il lavoro della sezione definitiva motodrome caratterizzata da una serie di curve piuttosto lente e di tutta l'area del traguardo con nuove bozze e nuove tribune inaugurate in occasione del gran piano motociclistico di germana del 1966 questo tracciato lungo 6.768 metri e da percorre ora in senso orario è stato usato per oltre trent'anni in occasione di questi lavori a modernamento fu realizzata a ridosso del motodrome anche una betella parallela al nuovo rettiline dei box denominata quest punch che dava vita a una configurazione ridotta del tracciato denominata kreiner course e lunga soli 2,6 chilometri a seguito dell'incidente mortale di jim clark in una gara di formula 2 nel 1968 ed in vista del gran piano di germania 1970 vennero inserite due varianti che interrompevano i lunghi tratti rettilini la prima delle quali fu delica dedicata al campione scozzese e costruita nel punto dove perse la vita a circa metà dal tratto che portava dalla prima curva alla ost curve nel 1982 questo circuito pose fine alla carriera di pion pironi dopo l'incidente mortale di patrick e de pailer nel 1980 durante una sessione di testi privati della scuderia alfa romeo nel 1982 venne introdotta un ulteriore variante delimitata da pneumatici all'ingresso della veloce ost curve il cui profilo sarebbe stato poi modificato nel 1992 sempre per motivi di sicurezza questa variante fu tirato dell'inconvenzione tra nelson piquet ed eliseo salazar durante il doppio peggio del cileno venuto a circa metà gara che portò al ritiro di entrambi che costò al brasiliano la vittoria del gran premio di germania 1982 fino ad allora dominato nel 1989 la variante clark fu riprofilata e nel 1994 esso è quadrintolata ad ailton sen subito in angola delle modifiche per rallentare ulteriormente le vetture nei luoghi rettifili dell'autodromo il tracciato attuale su persone da parte della formula 1 che nei tratti boscosi non poteva esporre sufficienti cartelli pubblicitari e che pensava fosse di più appetibile per i spettatori un gran premio su un numero di giri maggiore ma tra le proteste degli appassionati nel 2002 il tracciato fu completamente stravolto con la parte di alta velocità drasticamente accorciata furono costruite il nome tribune in alcune curve strette per creare maggiori possibilità di sorpasso per le monoposto di formula 1 il land baden rutenberg sostiene finanziariamente la ristrutturazione dall'allora il nuovo officio del circuito e ok nemming baden ruten berg la pista passò dal 6.823 metri del 2001 4574 attuali oltre al tracciato principale fu costruito anche un centro di guida sicura all'interno dell'autodromo tutti questi lavori portarono al disboscamento di una vasta porzione di foresta così per compensare ciò che ciò la parte non più in uso del tracciato fu demolita fra l'altro tra le proteste dei appassionati per fini di ribosca riboschimento sono solamente aspetta un attimo va bene se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare come sempre un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao